Buongiorno, siamo qua per presentarvi un prodotto innovativo, una fascia multiuso. Come vedete fuori è di cotone, all'interno invece di seta e all'interno abbiamo un fil di ferro che è pieghevole. Potete usarlo come braccialetto, come cintura o come fascia per capelli. Sembra un prodotto difficile da usare ma in realtà è molto semplice. Basta un'estremità più corta e un'estremità più lunga. Appoggiarlo davanti, girarlo dietro, portarlo sul lato anteriore, fare un mezzo giro per bloccarlo, poi si sceglie la parte che si preferisce, l'interno in seta o l'esterno in cotone, per fare poi il disegno che più ci piace. Una rosellina girandolo vicino alla testa, senza premere, così, e così il gioco è fatto. Oppure potete fare un fiocchetto o la forma che insomma più vi piace. Può essere utilizzato come braccialetto, infatti abbiamo varie misure, c'è la misura più piccola, la misura media che è questa, e la misura invece più grande, se riesce a inquadrare, con cui si può fare una cintura. Questo prodotto si può trovare in questi mercatini francesi che fanno varie tappe in giro per l'Italia, oppure abbiamo il nostro sito che è Le Bonne du Malat, il problema è che costa un pochino di più, sui 17-20 euro senza spedizione, invece qui lo trovate quella piccola al costo modico di 6 euro, con le varie offerte se ne prendete di più sui 10, quella media a 10 euro e quella grande a 15 euro. Dietro poi ogni prodotto trovate le istruzioni in francese per un rapido utilizzo. Però scegliere è semplice, la cosa più difficile da fare, soprattutto per noi ragazze, ahimè, è scegliere il colore. Ogni volta si passano almeno dai 10 ai 15 minuti qui a scegliere, quindi armatevi di pazienza.